Continuiamo la serie di video tutorial dedicati a Gestotel, il gestionale alberghiero open source In questo video tutorial mostreremo come è possibile effettuare il backup dei dati salvati sul nostro gestionale alberghiero L'operazione è molto semplice, consiste nel selezionare nel menu in alto database backup database In questa semplice schermata di Gestotel noi possiamo decidere di effettuare un backup in un momento qualsiasi Quindi basta cliccare sul tasto avvio backup In questo caso è stato effettuato il backup alla data odierna 30 settembre 2011 Questo è molto importante prima di procedere soprattutto in una nuova installazione di aggiornamenti di Gestotel o di nuove versioni I dati relativi al backup, quindi questi file .sql sono salvati nella cartella home E li troviamo nella sotto directory Gestotel backup E qui troviamo tutti i nostri file di backup Inoltre Gestotel ci permette di ripristinare il nostro gestionale alberghiero con i dati salvati in una determinata data pregressa rispetto alla data odierna Inoltre possiamo decidere di fare effettuare in automatico ad ogni avvio il backup dei nostri dati salvati su Gestotel Quindi cliccando su questa casella il gestionale alberghiero ogni volta che viene chiuso e riavviato effettua il backup di tutti i dati salvati nel nostro gestionale Quindi cliccando su questa casella